A tentato prima di investire un gruppo di ragazzi che si trovavano all'esterno della discoteca alle mie spalle, ha poi ferito un agente della polizia di Stato ed un anziano. È successo nella notte tra venerdì e sabato a Pratacci, zona industriale di Arezzo. Una notte di paura dunque iniziata con una segnalazione di disordini all'esterno del locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Arezzo, ma un poliziotto si è immediatamente ritrovato coinvolto nel parapiglia. Mentre stava raccogliendo informazioni sull'accaduto è stato infatti urtato dall'auto che procedeva pericolosamente a zigzag tra la folla dei giovani, pronunciando ad alta voce frasi minacciose. L'agente colpito ha cercato di fermare l'auto afferrando al finestrino aperto le braccia del guidatore. Ma l'uomo, continuando ad urlare parole offensive, non si è fermato e trascinato così il poliziotto per alcuni metri. Si è poi allontanato a tutto gas, investendo anche un anziano. Sul posto immediatamente sono arrivati rinforzi e in pochi minuti sono state attivate le ricerche dell'auto. L'agente ferito nel frattempo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove ha ricevuto le cure del caso con una prognosi di cinque giorni. Nel frattempo gli agenti della squadra mobile e delle volanti si sono messi alla caccia del fuggitivo. Decisive le immagini immortalate dalle telecamere di video e sorveglianza della zona, che hanno consentito di rintracciare l'autore dei fatti. Si tratta di un ventenne originario della provincia di Napoli, pregiudicato. Il ragazzo è stato fermato questa mattina alla stazione di Arezzo, in procinto di partire con il treno. Il giovane è stato denunciato, è accusato di lesioni aggravate, violenza e resistenza pubblico ufficiale. Al momento sono in corso ulteriori approfondimenti per comprendere le ragioni del folle gesto.